Sono un attore, lo confesso, ma prima ero una persona normale, mi sono anche laureato. Mi piaceva Max Weber, che era un sociologo che studiava l'agire sociale. Diceva che per comprendere bene gli altri bisogna mettersi nei panni di, che poi è il sogno di tutti. Tutti noi nella vita abbiamo desiderato almeno una volta di essere qualcun altro, anche per il semplice gusto di cambiare, o perché pensavamo, e siamo convinti alcune volte, di essere meglio. E quindi l'operaio sogna di fare il politico, il politico sogna di fare il giornalista, l'attore sogna di fare il calciatore, il calciatore sogna la figa e basta. Per capire gli altri tutti dovremmo avere il coraggio di vedere il mondo anche con gli occhi del lupo. Mettersi nei panni di, per comprendere e interpretare. Woody Allen ha detto a un solo rimpianto nella vita, di non essere qualcun altro. E allora crepi il lupo. O anche no.